Sinergì 2021, siamo a margine dell'evento, accanto a me Roberto Gigio, presidente di Coldwell Banker. Allora Roberto, l'hashtag di Sinergì è ripartenza, come si può collocare questo termine all'interno del mercato immobiliare? Intanto buongiorno e ringrazio Gerardo Paterna per questo evento. La ripartenza c'è, il mercato immobiliare sta rispondendo molto bene dopo la pandemia, anche più del previsto, considerando qualche scenario catastrofico che qualcuno aveva fatto, quindi siamo molto soddisfatti. Il mercato dopo tanti anni sta vedendo una crescita, un segnale positivo sia nel numero delle transazioni, ma dopo tanto tempo in qualche città e anche in qualche piccolo capuloco stiamo rivedendo anche il segno più nella ripresa dei prezzi. Quindi siamo molto soddisfatti e continuiamo così, saranno due o tre anni fantastici speriamo. Senti Roberto, cosa ti porti via, cosa porta via la tua azienda da questo evento, Sinergì? Qual è stata l'esperienza? Partecipare a questi eventi è sempre un momento di incontro con i colleghi. Mi porto via intanto la bellezza di ristare insieme dopo quasi due anni che non abbiamo più avuto la possibilità di stare in presenza di persone, tutto online. Quindi è stato un momento per rivedere vecchi amici, nuovi colleghi, confrontarci, passare una serata insieme. Ieri sera è stato veramente bello e quindi sono momenti di unione e di confronto che servono a noi operatori del settore per capire un po' come sono le tendenze del mercato, dove stiamo andando. Ci sono stati degli ospiti molto importanti che hanno parlato del settore del lavoro, big data, futuro e questo a noi ci permette sempre di stare al passo con i tempi. Bene, possiamo dare un appuntamento a chi ci sta guardando, a Sinergì 2022? Sicuramente se Sinergì 2022 come certo sarà fatto, Coldwell Banker sarà presente per apportare la sua esperienza agli altri e per ascoltare e raccogliere le esperienze degli altri in modo che possiamo migliorarci insieme. Grazie Roberto Gigio, presidente di Coldwell Banker. Grazie.